Allora, Spazi per Pensare è la finestra che abbiamo voluto aprire come Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università della Valle d'Aosta su tutte le iniziative formative, culturali, di divulgazione scientifica che abbiamo pensato di effettuare e che erano già previste in calendario per il prossimo autunno. Poiché si tratta di un calendario piuttosto denso, qualcuno di noi lo chiama anche cartellone, il cartellone del nostro Dipartimento, abbiamo pensato di radunarle per cominciare a fare un primo lancio di queste iniziative. Naturalmente poi ciascuna di queste avrà la propria presentazione dedicata. Il nostro Dipartimento infatti è un Dipartimento a forte impronta multidisciplinare che comprende al proprio interno scienze diverse, discipline differenti e dunque il cartellone in quanto tale può rappresentare la nostra anima da una parte, ma soprattutto visto nella sua interezza, nella sua unitarietà, rappresenta una delle principali intenzioni che noi svolgiamo nei confronti di questo territorio che è quella che viene chiamata tecnicamente terza missione. Oltre alla formazione e alla ricerca, noi abbiamo un compito molto forte, una responsabilità se vogliamo, che è quella di intervenire sul territorio, sul piano sociale per migliorare le prassi educative, per esempio, per migliorare le competenze degli operatori, anche per conoscere meglio degli aspetti di questa regione, del funzionamento di questa regione che attraverso la ricerca si possono conoscere. La prima iniziativa che effettueremo in questo autunno si svolge già questo venerdì prossimo. L'iniziativa in questo caso riguarda pensare la costruzione dell'identità nell'adolescenza. Seguiranno delle iniziative rivolte direttamente agli insegnanti, proprio perché anche l'anno scolastico è appena cominciato, non soltanto l'anno accademico al cui inizio incombe, e subito, fin dall'inizio, noi abbiamo previsto delle attività formative rivolte agli insegnanti, in questo caso in particolare rivolte agli insegnanti nella prospettiva di identificare precocemente i disturbi specifici di apprendimento, sia nella lettoscrittura che nella matematica. E poi via via a seguire ci saranno degli approfondimenti in ambito storico, geografico, per quello che riguarda le scienze ambientali, per quello che riguarda la psicologia, con due grandi eventi molto importanti che riguardano nuove strategie di intervento nel settore dell'assessment psicologico, che prevede anche la presenza di ospiti stranieri, e ancora la storia, e ancora iniziative di altri enti, per esempio sto pensando iniziative dell'assessorato alla salute, sanità e politiche sociali, a cui noi diamo il patrocinio, avendo partecipato noi stessi alle attività che verranno presentate. Gli incontri sono rivolti, a seconda della tipologia di iniziative, a seconda del contenuto dell'iniziativa, a popolazioni che possono essere diverse, naturalmente in molti casi, se non in tutti i casi, ai nostri stessi studenti, e poi a insegnanti, a psicologi, alla cittadinanza intera, oppure ai membri, le persone che hanno partecipato a un progetto di ricerca. In questo momento sto pensando al progetto di ricerca che ha riguardato l'utilizzo dei tablet da parte di persone anziane, quindi si presenteranno i risultati di questo progetto, loro stessi saranno i primi invitati a questa manifestazione. Timento ha infine in preparazione una iniziativa che ha una particolarità molto decisa, molto speciale, è quella di non pensare soltanto, o non immaginare soltanto spazi come quello accademico per riunirsi, pensare, riflettere e discutere, ma anche di spostarsi in spazi differenti. Stiamo pensando infatti, insieme all'Associazione Valdostana Volontariato Carcerario e alla Casa Circondariale di Brissonni, di organizzare una serie, un ciclo di lezioni che alcuni fra i nostri docenti che si sono resi disponibili svolgeranno direttamente presso la Casa Circondariale. L'iniziativa è ancora in fase di preparazione e soprattutto di definitiva approvazione da parte delle persone così responsabili. Un'altra iniziativa riguarda l'assessment in psicologia, assessment che significa valutazione diagnostica, valutazione attraverso i test psicologici, prevede due incontri, il primo si svolgerà in due giornate, quindi il 13 ottobre e il 14 ottobre, e il secondo seminario invece si svolgerà l'11 novembre. Il primo seminario vedrà partecipare un ospite americano, Stephen Finn, e riguarderà l'assessment terapeutico. Si affronterà quindi il tema del test psicologico in un modo un po' nuovo. Il test psicologico vede nella teoria di Finn il paziente coinvolto direttamente nella interpretazione delle risposte che lui stesso dà al test e nella stesura del suo profilo psicologico, mentre finora i test erano di tipo, vedevano il paziente con un ruolo passivo. L'iniziativa invece che si svolgerà a novembre, che vedrà la partecipazione della professoressa Valente Torre, come ospite esterno, ha a che fare invece con la misurazione delle capacità cognitive dei bambini, capacità cognitive che verranno misurate, che vengono misurate attraverso la Kauffman Assessment sulla base di due componenti. Una componente di natura culturale legata all'esperienza del bambino stesso e l'altra componente invece legata alle caratteristiche neuropsicologiche del bambino stesso. Quindi fa riferimento un po' alla teoria delle intelligenze multiple. Sono iniziative rivolte soprattutto agli psicologi, agli psicoterapeuti, ma anche agli insegnanti che quotidianamente hanno a che fare con adolescenti e con bambini.